Qualche consiglio per organizzare una mostra personale di pittura Se, come è naturale all'inizio, non potete pagare uno studio di comunicazione che faccia una campagna marketing sulla vostra mostra cercate di sviluppare voi stessi una comunicazione che vada un po' fuori dai social cioè la promozione sui social va sempre benissimo però anche avere qualche contatto con le redazioni dei giornali locali può essere molto utile inviare per esempio un comunicato stampa con le immagini delle vostre opere migliori il luogo in cui esporrete, la data, gli orari, i dettagli della mostra inviare tutto questo alle redazioni dei giornali locali non vi costa nulla se siete fortunati qualcuno pubblica qualcosa ed è tutta pubblicità in più per voi